Dalla Gelbison alla Gelbison, la team Altamura torna in campo e lo fa dopo il derby di Matera vinto, da campione d'inverno e da capolista indiscussa del campionato, un girone d'andata quasi perfetto, cominciato proprio contro i campani, una vittoria di misura che è un po' la caratteristica che ha contraddistinto finora gli uomini di Giacomarro, solidi ma allo stesso tempo cinici e spietati. Una zampata di lo iodice alla prima giornata, una pennellata due settimane fa nel derby, in totale 9 gol del fantasista barese sempre più protagonista tra i biancorossi. Con il 10 a segno la team ha vinto 7 partite su 9 incanalando una serie di 8 vittorie ed un pareggio dopo il KO di Casarano datato 29 ottobre. Si riparte con la trasferta di Castellabate contro la Gelbison, una delle grandi deluse di questa stagione, sfida difficile e di categoria, una delle classiche gare in cui bisognerà dimostrare ancora tutti i meriti con cui si è ottenuto il comando del girone H. Martino e Nardò distano 6 punti ma non resteranno certamente a guardare, fatto sta che il mese di gennaio, calendario alla mano, potrebbe consentire sulla carta ai murgiani di legittimare il primato. Al D'Angelo arriveranno Manfredoni e Rotonda nel mezzo alla trasferta sul campo della Palmese, il vantaggio è cospicuo, non definitivo, ma questo mese potrebbe seriamente indirizzare la stagione in vista del tour de force previsto tra febbraio e marzo. Giacomarro potrà contare su un organico ricco e di spessore, in avanti Saraniti sta iniziando ad ingranare, Mobilio ci ha messo meno di niente per timbrare il cartellino. A centrocampo potrebbe arrivare il classe 98 Daniele Cipolla, reduce dall'esperienza con il San Marzano, tutto porta sensazioni positive, il clima è sereno, in città si respira un'aria che mancava da decenni, il giro di Boa è stato raggiunto nella miglior maniera possibile, ma il bello verrà soltanto adesso per la prima del nuovo anno, c'è la Gelbison.